Cresce ancora il numero di positivi al coronavirus nel bellunese. Il contagio tocca altre 69 persone, ma 44 positività sono legate a un grosso focolaio che si è sviluppato in una casa di riposo e che ha coinvolto ospiti e personale. Intanto a livello nazionale il nuovo DPCM fissa alcuni obblighi, mascherina da indossare anche all'aperto, salvo il caso in cui ci si trovi nella natura da soli o al massimo con familiari conviventi, multe da 400 a 1000 euro a chi non rispetta le regole e tampone obbligatorio anche per chi rientra ad alcuni stati esteri. Questa è la lista completa dei paesi considerati maggiormente a rischio, diramata dall'Ulst-Dolomiti, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna. Chi rientra da questi stati esteri è obbligato a sottoporsi al tampone.